buongiorno amici di telecittà buongiorno amici di facebook ecco qua oggi ci troviamo con quel bellissimo e bravissimo giovanotto di nome alessandro di stefano ma voi potete dire ma qui alessandro di stefano alessandro di stefano è lo chef del ristorante pizzeria monte carlo la prima domanda che voglio fare ad alessandro è questa la vita è come una grigliata c'è sempre qualcuno che suda tutto il giorno perché altri stiano seduti e immagino ecco qua alessandro uno che suderà in cucina però a vicino alessandro ti presenti buongiorno e benvenuti ecco alessandro la prima domanda che ti faccio è questa qua da quanto tempo hai che sei chef ma diciamo sono nella ristorazione da un 18 anni abbondanti il tutto è iniziato grazie a mia nonna comunque che mi ha indottrinato mi ha fatto venire questa passione proprio per la cucina e dopodiché è subentrato il militare da lì è stata tutta in salita tra virgolette ma perché hai fatto lo chef anche a militare eh sì sì praticamente sì oltre a presentarti tu che sei un bravissimo chef siamo qua per pubblicizzare la giornata del ferragosto ferragosto il giorno 15 viene di mercoledì quest'anno alessandro se tu me lo permetti io vorrei leggerlo tutto guarda qua antipasto fritturina mista di paranza oppure salmone tonno e pesce spada affumicati primo piatto risolti frutti di mare oppure pesto al pistacchio secondo pesce spada farcito con bufale e pesto poi mi spieghi tutte queste cose alessandro perché qua già mi sta venendo l'acquolina in poco oppure gamberoni e calamari alla griglia contorno insalata mista acqua caffè sobbetto e tante belle cose alessandro iniziamo con la fritturina mista di paranza che cosa è questa fritturina mista di paranza allora la fritturina non è altro che pesce fresco che ci porta il pescatore locale cozze calamari mettiamo un pochettino di alici fresche poi naturalmente in base a quello che ci porta il pescatore quindi non abbiamo tutti i giorni la stessa tipologia di pesce perché noi appunto anzi soprattutto io perché mi piace andare a fare a me la spesa piace tastare con mano il prodotto che io devo andare a servire e lavorare comunque per i nostri clienti questa abbiamo parlato della fritturina mista di paranza salmone oppure salmone tonno e pesce a spada affumicata che cosa è tutta questa roba salmone tonno e pesce a spada affumicata o si prendono la fritturina mista oppure questo allora ho cercato di dare una scelta che varia dall'antipasto al secondo proprio per cercare di abbracciare una fetta maggiore di ospiti questo trittico fumè non è altro che appunto tonno spada e salmone molto minimalista molto semplice ho cercato di fare un menù proprio leggero per cercare di fare gustare i nostri prodotti tradizionali ma non appesantire comunque il nostro ospite allora primo piatto risotti ai frutti di mare com'è il classico risotto ai frutti di mare o c'è qualche piccola novità? diciamo che c'è qualche piccola novità anche perché io il risotto lo faccio asciugare con un fumetto di pesce fatto esclusivamente da me quindi pian piano fatto asciugare e mettendo un po' di frutti di mare misti dalle cozze, vongole, calamari, moscardini sempre in base al pescatore cosa ci consiglia devo visionare giustamente tutto il pesce più fresco è e meglio è naturalmente però se c'è la persona che dice a me il pesce non mi piace mi piace mangiare un altro tipo di pasta leggiamo pesto al pistacchio com'è fatto questo pesto al pistacchio? di solito il pesto si fa a Genova oppure no? esattamente, solitamente il pesto è praticamente genovese fatto con i pinoli io ho voluto rivisitare il tutto facendo un pesto di pistacchio naturalmente con il pistacchio di bronda e tostato è molto leggero e molto robusto come forza, come consistenza ecco, poi pesce spadre oppure in alternativa gamberoni e calamari alla griglia un classico, un classico esattamente però sempre da ribadire che il nostro pesce è freschissimo quindi abbiamo un prodotto di nicchia esclusivamente di nicchia e poi messo qua come contorno insalata mista cosa è la forma di insalata? quanto valorizza in cucina l'uso dei prodotti locali? cioè che cosa ho utilizzato? spesse volte ci sono ristoranti, te lo dice Buffa che utilizzano prodotti congelati e così invece mi pare la caratteristica vostra è una che tu me lo dicevi in anteprima la freschezza, freschezza del prodotto assolutamente non roba congelata assolutamente anche perché vado io come ho detto prima proprio al mercato per acquistare il pesce più fresco possibile per quanto riguarda il pesce ma per quanto riguarda i prodotti che utilizza il pizzaiolo che sempre noi abbiamo gustato in anteprima cosa sono? Prodotti Blade? esattamente, prodotti Blade, ragusano e soprattutto usa il nostro pizzaiolo Bernardo Garofalo usa delle farine autoctone siciliane che poi naturalmente utilizzo anche io in cucina attingo anche perché abbiamo una filosofia molto molto simile di cucina proprio mediterranea e del territorio siciliano amici miei il menu si conclude con acqua, caffè e sorbetto con la modica cifra di 35 euro a persona esattamente, un prezzo contenuto per un'ottima qualità del nostro menu ok Alessandro ti ringrazio per questo menu che ci hai descritto però la cosa più importante è quella di dire alla gente giorno 15 di mercoledì, giorno del ferragosto dove devono venire beh vi aspettiamo qui al ristorante e pizzeria Monte Carlo ad Ortigen e via Santa Teresa 14 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti